Presso Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e la Fondazione Meeting del Mare, Crea, hanno inaugurato la natura svelata, armonia e conflitti nei paesaggi dell'arte. Presenti il Presidente del Parco Tommaso Pellegrino, il Curatore della Mostra Don Gianni Citro, il Direttore del Parco Romano Gregorio, il Consigliere Regionale Franco Picarone e il Capo Segreteria del Ministero dell'Ambiente Fulvio Mammone. La Mostra sarà aperta al pubblico dal 5 luglio al 5 settembre 2019. Ma innanzitutto c'è ancora tantissimo da raccontare, il Parco del Cilento è ricco di biodiversità e questo evento che gode del patrocinio del parco deve essere un'occasione per tutti i cittadini per avvicinarsi all'arte, riscoprire la cultura ma soprattutto svelare quel pezzo di natura che forse anche molti cilentani non riescono ancora ad apprezzare. E' una mostra di grande interesse in una villa come Villa Matarazzo, restaurata, ristrutturata e quindi restituita anche ai cittadini. Quindi spero che ci siano tante altre occasioni, ovviamente porto il saluto del Ministro Costa che ama moltissimo queste zone e stiamo investendo anche molte risorse per fare in modo che il parco sia sempre più vicino alle necessità della gente e delle imprese, ovviamente nella sostenibilità. Questo si inserisce nel più ampio programma che noi facciamo da qualche anno di valorizzazione dei nostri beni, in una logica di ampliare l'offerta per i tanti villeggianti, i tanti turisti che frequentano questi luoghi, di modo che possano capire ed apprezzare il lavoro che facciamo, le tante bellezze e le peculiarità che sono insite nel nostro territorio. Quindi non solo natura, mare e quant'altro ma anche e soprattutto cultura perché il nostro territorio è ricco di tantissima cultura. Non è casuale che siamo l'unico parco al mondo che abbiamo quattro riconoscimenti UNESCO, come lo ripetiamo da sempre. Questo sta a significare appunto che il nostro territorio merita di essere goduto, fruito e soprattutto apprezzato maggiormente per i siti culturali che ha. L'arte è un linguaggio che ci aiuta a decifrare tutta quanta la sintassi, la grammatica basilare del mondo, della vita, della natura, della natura dell'ambiente, della natura dei mari, dei monti, ma anche della natura delle comunità umane, delle persone, che non va trascurato come elemento perché spesso la natura umana risulta essere vittima di ipocrisie, vittima di violenze, vittima di maltrattamento, vittima di oscurantismi. La natura svelata significa che la natura nella sua vera essenza merita sempre, ad ogni costo, di poter vivere le sue piene e assolute manifestazioni, perché la bellezza della natura e la verità della natura avviene solamente quando un essere umano con la sua intelligenza e la sua sensibilità si colloca in un rapporto di svelamento integrale.